Ben ritrovati alle previsioni meteo di venerdì 30 settembre. Affoggia cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, rasserena in serata, sono previsti 30 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21 gradi, la minima di 17. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da sud, al pomeriggio saranno tesi e proverranno da sud sud ovest. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata.